L'emergenza Cinghiali, l'assessore regionale Gallo interviene sulla questione chiedendo un cambio di rotta per quanto riguarda le decisioni del governo che sta affrontando l'emergenza in maniera errata. C'è una delibera che abbiamo licenziato su iniziativa di col diretti come giunta regionale nei giorni passati, questa delibera consentirà agli agricoltori, naturalmente con una serie di cautele assolutamente necessarie, di poter difendere il proprio podere, il proprio terreno nel momento in cui ci dovessero essere presenze di cinghiali. Siamo stati la prima regione a fare questo, credo che questo aspetto sia un aspetto importante, interessante, sul quale naturalmente investire ancora di più, soprattutto facendo capire al governo che l'emergenza non si può affrontare con questi sistemi che sono assolutamente palliativi.